Salve a tutti i leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Mi dispiace per ieri perché non sono riuscito per mie mancanze a pubblicare il video sulla ROD, quindi lo ripropongo oggi. Innanzitutto sappiamo che è uscita la Legends ROD, molti di voi hanno già sbloccato Trunks, l'hanno portato a livello 2000, eccetera eccetera. Principalmente questo video è indicato più per chi magari ha le prime armi e non sa come muoversi con una ROD, esattamente come fu per la prima ROD di Goku bambino. Allora innanzitutto andiamola a vedere, la ROD si propone, si vede in questo modo, sono praticamente tre battaglie normali in cui la prima battaglia avremo delle medaglie di bronzo come ricompensa, eccola qui, e 50 crono alla prima realizzazione con le varie challenge insomma, ma queste poi non è un problema da vedere. Il primo personaggio questa volta è un livello molto alto, un livello 1000, quindi per chi ha appena iniziato è sicuramente impossibile, però abbiamo anche gli XP doppi dalla storia, quindi ragazzi non perdete tempo a farmare perché l'evento dura più di 30 giorni, quindi abbiamo tantissimo tempo. La battle 2 ci darà le medaglie d'argento, avremo C18 da battere a livello 1300, come vedete, e 50 crono. Principalmente le 50 crono le otterremo sempre a ogni battaglia che andiamo a completare, e la challenge battle, che io ho fatto soltanto due volte per provare, non sono riuscito ancora con il tempo, ci darà 100 crono. Ok, quindi la battle 1, battle 2 e battle 3 ci permetterà di ottenere soltanto rispettivamente medaglie di bronzo, argento e oro. Nella battle 3 andremo a combattere contro C17 Extreme livello 1500. Vi ricordo sono tutti rossi, quindi il team deve essere composto da personaggi blu, diciamo preferibilmente, ovviamente se abbiamo personaggi blu e uno di un altro colore non è un grandissimo problema, l'importante è che quei due blu siano molto forti, perché la riduzione di danno è più grande per quanto riguarda gli altri personaggi. Nell'X Battle 1 invece la situazione si fa un po' più complicata, avremo due personaggi da sconfiggere, sono un C19 e un C20 livello 1500-1600, le medaglie sono rispettivamente bronzo e argento. Stessa cosa, doppia reward, doppio argento e oro come reward per quanto riguarda l'X2 e nell'X2 abbiamo tre personaggi, C17, C18 e C16, 1700-1700-1800, non è molto complicato, in realtà per chi ha un team ben formato queste sono battaglie che si completano anche in automod tranquillamente, molto semplicemente. Nell'X3 abbiamo oro e bronzo e questi Cell come personaggi da battere. Nell'X Battle 4 io qua non lo riesco a cliccare, in realtà però abbiamo Tensinan piccolo e Super Vegeta da sconfiggere, le reward si possono fare 4 volte al giorno, e le reward sono tutte e 3 le monete per un numero variabile, potrebbero essere, potrebbero andare dai 35 ai 50 all'incirca per entrambe, cioè tutte e 3 le medaglie. Diciamo che dobbiamo tenere d'occhio il fatto che gli X Battle abbiano 2 energia come richiesta per poter completarli, mentre le Battle 1, 2 e 3 hanno energia 1 come richiesta. Principalmente se ci serve soltanto un tipo di medaglia è meglio andare sui Battle 1, 2 e 3, se ci serve invece farmare il più possibile io consiglio di andare sull'X Battle perché diversamente dalla reward di Goku le medaglie che vengono date sono un po' più grandi, cioè il quantitativo di medaglie è maggiore. Per quanto riguarda lo shop, poi andiamo a parlare dell'X Battle 4 e del Challenge Battle, per quanto riguarda l'X Change Shop io non ho ancora acquistato nulla se non degli Z Power di Trunks, ma non l'ho ancora sbloccato perché lo volevo sbloccare con voi. Perché? Perché le medaglie precedenti di Goku non possono essere utilizzate, ve ne sarete accorti, perché l'X Change esiste ancora di Goku, della reward di Goku, quindi potete usare soltanto su quell'X Change con quelle medaglie di Goku. Su Trunks sono altri tipi di medaglie, quindi non possono essere utilizzate. Come vi conviene procedere? Secondo me vi conviene procedere in questo modo. Allora, innanzitutto, se voi siete alle prime armi e non avete tanta energia, siccome il farming, come ho detto precedentemente, è molto lungo, vi conviene accumulare un po' di medaglie e comprarvi gli Energy Ticket. Comprando gli Energy Ticket, che costano solo 3, ve li potete comprare principalmente sia con le medaglie di bronzo che con le medaglie di argento. Quindi con entrambi i due tipi di medaglie vi potete comprare questi Energy Ticket, sono 20. Questi 20 Energy Ticket, ogni Energy Ticket ci dà 5 di energia, quindi ci permette di farmare in maniera continua, senza aspettare che si ricarichi la barra dell'energia, che durante il giorno magari si potrebbe fare soltanto 3 o 4 volte. Quindi la prima cosa che io consiglio di fare è acquistare gli Energy Ticket. Gli Skip Ticket si possono anche acquistare subito, però io consiglio di comprarli magari verso la fine, quando abbiamo già farmato il personaggio, perché il farming, ragazzi, è lunghissimo. Quindi la prima cosa da fare secondo me è acquistarsi gli Energy Ticket, tanto ragazzi sono semplicemente 30 medaglie di bronzo e in questo caso 30 medaglie di argento. Non sono nulla assolutamente, quindi ve li acquistate e avete questa riserva di 20 Energy Ticket. Dopodiché io consiglio di andare ad acquistare gli Zeta Power di Trunks. Gli Zeta Power di Trunks si possono acquistare anche in questo caso sia col bronzo, con l'argento, che con l'oro. Abbiamo tantissimo farming da fare su Trunks fino a portarlo a 3 stelle, quindi a 700 Zeta Power, perché a 100 Zeta Power si sblocca a 0 stelle, a 200 la prima stella, a 400 la seconda stella e a 700 Zeta Power la terza stella. Quindi il farming è davvero lungo, lo ripeto, lo sottolino sempre, e andiamo per esempio a sbloccare Trunks. Io sono arrivato a 85 Zeta Power, acquisto, 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 arrivo fino a 100 e apparirà la scritta Character Acquired, cioè io sbloccherò Trunks. Quindi praticamente io ho preso 15 Zeta Power e le ho pagate 150 monete. Quindi 100 per sbloccare Trunks c'è bisogno di un complessivo di 1000 monete, quindi che siano 350 d'oro, 350 di argento e 300 di bronzo va benissimo. Acquistiamo con 1000 monete, acquistiamo la 100 Zeta Power di Trunks e quindi lo andiamo a sbloccare. Quindi andiamolo a comprare e lo sblocchiamo assolutamente in battaglia, cioè o meglio, lo sblocchiamo insieme. Si sblocca la prima missione, che cosa si intende? Andiamo subito a vedere. Intanto ci mostrerà, eccolo qui, Trunks, che è un bellissimo personaggio anche per quanto riguarda le Arts, cioè l'Art, definiamo l'Art, non le Arts perché non l'ho ancora assolutamente provato, l'ho sbloccato appena adesso. Se andiamo a vedere nelle missions, andiamo a vedere principalmente che ci sono delle missioni annesse a questa ROD, e cioè sbloccare Trunks, portarlo a una stella, portarlo a due stelle, portarlo a tre stelle. Quindi da lì in poi andare a progredire la sua classe, quindi Fighter, Adept, Master e Super. E di qui in poi ovviamente anche il Boost Panel, per un totale di 600 crono, che è ottimo, più le 450, se non ho sbagliato i calcoli, della ROD stessa e sono 1050 crono. Questo non è ovviamente per niente male, è un personaggio buono, soprattutto quando si trasforma, ed è anche un ottimo booster per il team Future. Quindi questo per quanto riguarda sbloccare il personaggio, ovviamente si andrà oltre, quindi io andrò oltre, arriverò a 156, arriverò a 200 e gli sbloccherò la prima stella, eccetera, eccetera. Tuttavia io ho appena sbloccato Trunks, allora che cosa mi conviene fare? Mi conviene innanzitutto portarlo a livello massimo, quindi innanzitutto lo sviluppiamo per i livelli. Per poterlo portare avanti con i livelli ovviamente dobbiamo progredire con le classi. Nel Soul Boost sappiamo bene che progredire con le classi significa andargli a sbloccare i primi pannelli necessari per poter cliccare quel pulsantino bianco, quindi sono 10 la prima volta, poi iniziano ad essere 20 ogni volta. Per fare questo c'è bisogno di acquistare Rising Soul di Trunks e Super Soul di Trunks. Quindi ragazzi, le Rising Soul costano 2, però sono 700 acquisti con le medaglie di bronzo, 760 acquisti con le medaglie d'argento e 820 acquisti con le medaglie d'oro. Quindi ragazzi, sono tante le medaglie come vedete, e in più ci sono anche le Super Soul che costano molto più delle Rising Soul. Tuttavia c'è anche da considerare che probabilmente ci terremo qualche Rising Soul e qualche Super Soul da parte perché come è successo con Goku, tornerà alla Rod e noi magari ce le siamo già avvantaggiate e lo potremo Soul Boostare più avanti. Quindi andiamo sempre ad acquistare quello che per il momento ci serve. Quindi una volta io vi consiglio, una volta sbloccato il personaggio Trunks, quindi con 100 Z-Power, andare a potenziarlo come livello e anche quindi come Rising Soul e Super Soul. Quindi andremo ad acquistarci le varie risorse per sbloccare il Soul Boost. Quindi questo è quello che io ho come idea. Cioè diciamo io agisco così nella Legends Road, cioè sblocco Trunks, lo porto al 498% o almeno al 400% con livello 2000 e dopodiché gli inizio a dare le stelle. A meno che non vi serva subito come booster per il Team Future. Comunque in questi giorni sempre insieme a tutto quello che si è accavallato di Cabba, Caulifla, andremo ad analizzare anche Trunks molto velocemente come personaggio. Magari senza la solita grafica perché è un personaggio sicuramente più semplice che però potrebbe avere delle buone affinità nel Team Future. Magari vediamo a livello temporale come riesco a gestire questa situazione. Quindi questo è tutto quello più o meno che c'è da dire per quanto riguarda l'Exchange Shop. Qualsiasi dubbio ovviamente andatemelo a scrivere nei commenti. Quindi quello che io vi consiglio di fare è andarvi a fare ogni giorno le 4 X-Battle 4. Abbiamo comunque due cose da dire. Innanzitutto l'Ex-Battle 4 ha come tre missioni all'interno della battaglia stessa che sono di fare 1.650.000 di Rising Rush, 1.800.000 o 1.850.000, non ricordo, di Rising Rush e di combattere con soli personaggi extreme. Quella è un'altra sfida che deve essere fatta ovviamente se vogliamo completare la battaglia stessa, se vogliamo avere tutto al completo e quindi magari nei prossimi giorni questo sarà un altro dei video che vi porterò per farvi vedere. Devo provare anch'io, sto portando anche i miei extreme in alto per provare. Io per esempio così a occhio proverò magari con un team di Trunks Kid e Goten Kid Extreme Blue entrambi e Gohan Future Forma Base Extreme, quello verde. Tutti e tre potenziati e magari quindi andare a creare un team hybrid. Per quanto riguarda la Challenge Battle questa è veramente tosta, è veramente tosta e come tutte le Challenge belle toste bisogna cercare di farla anche avendo un pochino di fortuna perché alle volte magari non capitano le carte giuste e siccome è una battaglia molto lunga magari si capita di sbagliare alla fine. Io vi posso dare dei consigli principalmente, siccome loro partono dalla forma base, hanno due barre come Gogeta e si trasformano poi in Super Saiyan, il primo consiglio che vi posso dare è di eliminare Trunks. Toglietevi dalle scatole Trunks il prima possibile perché comunque Gohan quando lo eliminate dà un boost. Gohan Super Saiyan sappiamo che eliminandolo dà un boost a Trunks quindi è da stupidi andagli a creare quest'altro boost. L'ho provato una volta, ho eliminato subito Gohan, ovviamente non stavo pensando a questa cosa e mi ha dato il boost a Trunks. Quindi vi consiglio di portare un team che riesca a reggere, io sto portando questo team anche con Broly Super Saiyan perché veramente l'ho provato pochissime volte e proverò con altri team. Non ho né Goku Kaioken e né Cooler, questa è una grandissima pecca. Quindi gli altri personaggi che posso avere sono veramente risicatissimi, ho Darbula o Freezer Carrozzina ma non penso siano molto adeguati all'operazione. Quindi il consiglio è quello. Poi ovviamente avremo tanti Rising Rush da fare e come è stato detto già in AX, quindi nel gruppo Telegram, non fare, una volta eliminata la prima barra del personaggio, non fare subito il Rising Rush al personaggio trasformato in Super Saiyan che già ha un boost iniziale. Quindi magari gli togliamo un po' di vita e poi andiamo con il Rising Rush. Quindi questi sono consigli generali sulla ROD e come approcciare. Oltre la ROD sono stati aggiunti, è tornato l'evento di Vegeta, il Knockdown di Immortal Vegeta che è finito una settimana fa e è ritornato. Vabbè, così per altri 13 giorni va benissimo. Farmatevi gli item di Goku e di Vegeta, quelli oro, perché sono veramente ottimi ragazzi. Cercate di portarlo almeno con una pallina gialla o due palline gialle, soprattutto all'ultimo slot. Non ve ne pentirete assolutamente. Nell'upgrade abbiamo lo scout battle di Pan Extreme, anche questa cercate di farla. Portatevi una Pan a livello 1500 così da completare tutte le sfide. E va benissimo, sì. La nuova stagione quindi per quanto riguarda il PvP. Andiamo a fare le missioni tutte quante e otterremo delle buone Crono e tutto il resto. Ragazzi, io penso di avervi detto tutto per quanto riguarda la Legends Road. Ovviamente, qualsiasi dubbio, venitemelo a scrivere nei commenti e ne parliamo insieme. Ciao ragazzi!